Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, istituita nel 1999. È importante ribadirlo oggi, ma anche tutti i giorni dell'anno, per dare uno schiaffo definitivo a questa forma di violenza. Sì, anche quest'anno il Comune di Montalabate ha deciso di pitturare e dipingere una panchina di colore rossa che verrà posizionata nella piazza 25 Aprile ad Apsella. E quest'anno, oltre ad aggiungerci una scritta proprio per la tutela delle persone, delle donne che vengono brutalmente uccise, abbiamo inserito il numero, il 1522, il numero da chiamare l'antiviolenza sulle donne. Questo argomento ci sta molto a cuore, sia a me che all'assessore Penserini Ramona, assessore Pari Opportunità, perché è un dato di ieri, che nel 2021 sono state uccise più di 100 donne. Questo vuol dire una ogni tre giorni e mezzo. È un dato improponibile, allarmante. E quello che voglio sottolineare, a parte l'importanza dell'istituzione di questa giornata, e l'importanza di chiamare il numero, è quella di non abbassare mai la testa, di ribellarsi e di non avere paura, perché le persone che sono sottoposte a queste violenze hanno paura, perché pensano di essere sole. In realtà non lo sono. Ci sono le forze dell'ordine che sono ben disposte ad accettare e ad accogliere qualunque denuncia. Ci sono le associazioni che sono preparate per l'accoglienza e la tutela di queste persone. E poi ci sono i sindaci, come me, che potete fermarmi per strada e chiedermi aiuto. Io sicuramente non mi girerò e non mi volterò dall'altra parte. Ha organizzato il Comune di Montelabate anche un corso di autodifesa, giusto? Sì, abbiamo organizzato un corso di autodifesa insieme, in collaborazione con il maestro Mennella, che ha prestato, insomma, lui è maestro di arti marziali, quindi ci ha chiesto la palestra, che noi ben volentieri le abbiamo concesse e quindi le persone possono iscriversi e partecipare a questo corso. Sappiamo che è una goccia nel mare, perché comunque è vero che non è sufficiente partecipare un giorno solo, però è un input ed è un messaggio forte e chiaro che vogliamo dare alla popolazione, in questo caso alla cerchia femminile, che non ci siamo e siamo vicini a queste donne.